Dammi qualcosa da fare, c'è un creeper che si sta avvicinando, mi fa troppa paura Matere! Aiuto, aiuto! Dammi un'arma, è dietro di te, è dietro di te! Cosa? È dietro di te! Dovete morire tutti Morite, morite C'è bisogno di cantare mentre li uccide È la canzone della morte Ehi ragazzi, come va? Io sono Feriniki E io sono Steph, e che si giochiamo a Minecraft E siamo tornati nella nostra isoletta sulla Sky Grand Avremo tantissime cose da fare Siamo arrivati alla quest numero 5 Il cui obiettivo è fare del pane Esattamente, stavo facendo una faccia strana Perché c'è una di quei cosi che ci guardavano Anche io gli ho vizi, ho cercato di far finta di niente Perché stavo presentando tutto, però mi stavo già Voleva partecipare all'intro No, diciamo che mi stavo già facendo sotto Perché ho visto tutti quei mob messi lì E di certo non mi rassicurano Esattamente, comunque vi ringraziamo tantissimo Per tutto il supporto che state dando a questa serie Siamo felicissimi perché anche noi ci stiamo divertendo tantissimo E oggi abbiamo tantissime cose da fare Allora, rielenchiamole Ci facciamo un po' di torce con la legna Quindi bruciamo la legna e creiamo le torce Poi Facciamo tutta una piattaforma sotto per quello spawn E creiamo una specie di isolotto chiuso bene Per farmare i materiali Assolutamente Facciamo una coltivazione Per poi fare il pane col grano Esattamente Tutte queste cose E ora che non appena scaviamo lì magari finisce che perdiamo l'acqua Io so che queste cose possono succedere Allora, aspetta E se perdiamo l'acqua succede un disastro Quindi dovremmo stare molto molto attenti Ok, io pensavo Ok, rassicurami Che se facciamo Ta Ok Ta Non succede nulla E adesso abbiamo una piccola coltivazione Ah, in effetti Sì, non ti stavo seguendo Scusami se un attimino Hai avuto paura? Sì, mi hai spesato perché all'inizio ho visto tutta quella acqua scendere Ho detto Lo so Combina un disastro E distrugge la mia fonte di acqua Avevo paura anche io Ci tengo a precisare che stavo panicando Ti ho visto un po' titubante Quindi ho detto Adesso combina un disastro Sì, sì, sì Facciamo una figuraccia definita così la serie Quindi ho avuto davvero paura Comunque è andata bene È andata bene Allora, ti devi fare la pala, giusto? Come si chiama in italiano? Quella per... Lavorare il terreno per permettere la coltivazione È tutto a posto È tutto a posto Stai tranquilla? Non ci provare Sono tranquillissima Allora Dammi qualcosa da fare C'è un creeper che si sta avvicinando Mi fa troppa paura Vattene! Aiuto! Aiuto! Dammi un'arma è dietro di te! È dietro di te! Cosa? È dietro di te! Sei già morta Mi ha fatto volare di sotto Te l'ho detto che c'era Ma io non ho capito perché non hai preso un'arma Vabbè, non avevo nulla Stavo cercando di creare Lo e io E c'eri giù lì che panicavi Mi hai fatto panicare Allora Io adesso faccio una cosa No Cosa vuoi fare? Non mi piace Quando fai quel tono Mi chiudo qui dentro Non esco più Vieni No Vieni Sto piangendo Guarda Guarda cosa ti do Mi metto qua Guarda dove stanno Lo devi far vedere Sto piangendo in un angolo Guarda che bel giocattolo Mi ci hai fatto rimanere malissimo Dai andiamo su Mi ci hai fatto rimanere malissimo Andiamo Ma dimmi te se mi deve fare esplodere con un creeper Dovremmo essere alleati in quest'is E infatti lo siamo In mezzo al cielo E tu mi fai morire Non avevo armi per difenderti Uffa Oh Ciao Ogni tanto mi fa paura Perché mi sono girata due secondi fa C'erano gli alberi Mi rigira Allora Pronto aiuto Signorina Ok Un attimino di serietà qua Allora In In fatuta Tutta la terra Ah La terra Coltiva la terra Tasto destro Ok Vada sulla terra Tasto destro Sì voglio un attimino di Di support Avevo paura Allora faccio tutta quella vicino all'acqua Giusto Tutta Tutta a tasto destro Vai Così Così Sì bravissima Così grazie Tutta 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 Eh lo sto facendo Se mi dai un attimino Ti stai un attimo zitto Lasciami di mettermi fretta Ecco ho fatto Guarda che bella coltivazione Che ti ho fatto Bellissima Facciamo anche Vediamo Anche questo Sì carino È concentratissima oggi Bello Sì sì Allora Io nel mentre Creo un po' di carbone Ho messo a fare un po' di carbonella Perché non è coal Ma è carbonella Ok E ci voleva la legna pura Vero? Sì In effetti Era un po' più logica come cosa Sì in effetti Allora la lascio qua Mi stai rompendo l'ascia Giusto per dirtelo Oh no Per farlo sapere Vabbè Ma è una tragedia Sì eh Come farò poi a prendere la legna Ne creo un'altra Allora aspetta che te la inizi a creare Oh che gentile Vero? Che gentile Facciamo che ne creo tipo tre Così ce ne abbiamo Esatto Così siamo a posto per un bel po' Non ci dobbiamo più preoccupare Stai rotta Stai rotta Vai te l'ho messa direttamente nella cesta Ok grazie Allora Allora io mi faccio Facciamo Sì Mi faccio un pochettino di slab Ok E mi sa che facciamo Una bella piattaforma Per lo spawn Io ho anche ripiantato Gli alberi Gli alberi Così siamo a posto Già quattro ne abbiamo Sì vabbè Adesso ne abbiamo uno Perché li ho appena messi Ok Ci sono ancora queste foglie Quindi è probabile che ne caschi qualcun altro Speriamo almeno altri due Così iniziamo a essere un po' più tranquilli Perché ogni volta non siamo tranquillissimissimi Allora io vorrei allargare un pochettino Questa piattaforma da questa parte Perché ho notato che in base a come cresce l'albero Se è molto esterno Stendono a cadere giù le cose Capito? Sì E non vorrei perdere alberelli Mi sembrava una cosa stupida Per Allora Dentro lo spawn C'è il finimondo Immaginavo Dato che Da un po' che non Aspetta che c'è che farlo esplodere Un creeper Spim Così ammazza tutti Sinceramente Vai a esplodire anche tu Bravo Stai facendo le cose Dato che poi non esplode neanche lo spawn Esatto Esatto Lo sfruttiamo per amatare i mob Esatto Assolutamente Benissimo Che astuzia Sì proprio cose impensabili nel mondo Allora la base sotto comunque mi piace l'idea Magari non dico di farla tutta in questo episodio Ma magari possiamo iniziare a fare la struttura Sì sì assolutamente Ok ok Sarà un lavoraccio però possiamo iniziare a farlo Così si può iniziare a fare una base un po' più carina Io ho paura di entrare dentro da quanti scheletri ci sono Mi sa che Tanti? Sì tantissimi Facciamo che Chiudo di nuovo Mi prendo una spada E vado a tagliare Gli è caduto un alberello Dovete morire tutti Morite morite C'è bisogno di cantare mentre li uccide È la canzone della morte Sei molto stonato Cioè lo so che in questo momento l'hanno pensato tutti Però è giusto che io te lo dica Sai com'è È giusto far sapere le cose Eh lo so sei sempre gentile Quando stanno un po' degenerando insomma Mettiamo così Le torce le hai fatte? Eh fatti è quello che stavo pensando Dato che sta arrivando la notte Sei come non vorrei fare come nello scorso episodio E essere invasa da tutti Sei pronta? Sì Ah ok dicevo non c'è nulla nella fornace Allora facciamo Io le voglio mettere io 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 Allora vai Aiuto arrivo il ragno Aiutami non ho armi Aspetta Togliti togliti Vai 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 Ok mi devo creare la spada assolutamente Tutto bene Scusami un attimo ma quante stringe abbiamo? Cinque Interessante Uh bello Allora Sì 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 Tieni Grazie Quante ne hai fatte? Te ne ho fatto 32 Esagerato anche tu ma dimmi Ne abbiamo altre 32 Allora ne mettiamo un'acqua Ah ah Un'acqua Ah ah Un'acqua Ah ah Mi prende l'acqua La smettiamo Un'altra acqua Guarda che carino Bellissimo Il posto illuminato Io faccio più luce che si può Ascolta facciamo luce anche nel Tutto Nel percorso Nella pedana L'importante è non metterlo soltanto dentro lo spawn Così continuano Eh certo Quello era ovvio Ad arrivare i mostri da ammazzare Quello era ovvio Ahia Affrontami il scheletro Uno contro uno Cosa mi hai dato? Boom meal Boom meal Uh bella la boom meal No mi sono chiuso dentro Che hai combinato? Eh mi sono chiuso dentro Oh no Mi sono scocciato Vieni su Arrivo È il momento Di fare Eh volevo evitarla questa cosa Perché la boom meal È molto utile per tante cose Quando dico vieni su Vieni Non finire di fare altri scalini Va bene Arrivo Antifatica Arrivo Arrivo Allora quindi ti stai scocciato E vuoi usare la boom meal per qualcosa Vai Spacca l'erbaccia Attenta a non spaccare gli alberi Uh semini 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 E certo è normale Tanti semini Lo so Belli Ok non ho spaccato gli alberi Perfetto Quanti? Quattro Vai piantali tutti Allora Tenta a non passarci poi sopra Ok ok Allora adesso La boom meal restante La iniziamo ad utilizzare Uno di grano pronto Ok Due di grano pronto E adesso dobbiamo aspettare il terzo Ok 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 Praticamente se avessimo Trovato i semini dagli scheletri Almeno avremmo potuto usare la boom meal Per finire subito E quindi fare dietamente il pane Invece così Ci toccherà aspettare un pochettino Per il grano Però non ci stavano dando semini Ci dovevamo arrangiare in qualche modo Eh certo certo Un regalo per te Cosa? Ciao Tieni Oh grazie Oh grazie guarda Lo posso mettere da qualche parte? Certo Tipo Lì Dentro casa O qui E lì è bellino E lì è bellino Oh che carino Che carino Allora torno ad ammazzare qualche scheletro Nella speranza Voglio venire anch'io Aspetta mi faccio una spada e arrivo Ok Allora Mentre tu amazzi e fai il lavoro sporco Sì Io mi metto a costruire una bella piattaforma Così finalmente potremo minare la nostra stessa isola Oh bello questo E iniziare a fare una base ancora più bella Perché la tua è un po' brutta C'erano pochi mob comunque Eh nulla Semini, bombi, alle niente Mi hanno dato una freccia e un blocco di terra Oh che bello Vabbè aspetta un pochettino così nel responano un po' e li faccio Tanto non ha senso aspettare lì davanti ferma Non ha troppo senso Dai Allora Sono in bassissimo Ho una paura incredibile di cadere Aspetta che vengo a vedere dove la stai facendo Eh sono proprio in bassissimissimo L'ho fatta apposta Dove accidenti sei finito? Più sotto Ah ecco ti Mi vedi? Da qui ti vedo Aspetta dove sei? Ciao Così possiamo iniziare e poi anche dare a forma al nostro rifugio Non vedo l'ora Potremmo fare la prima nostra base grandina Non dico gigante però almeno un po' grande Grandicella insomma Anche perché dobbiamo stare attenti Perché comunque noi non sappiamo dove compaiono le prossime isole E se costruisci dove c'è l'isola ti si spacca tutto Quando l'avevamo giocata da soli Tanto tempo fa Ovviamente non sapendo dove spanavano le isole Avevamo fatto un rifugio bellissimo enorme E ci spona l'isola sopra distruggendolo Cioè è stato tristissimo Davvero è stato tristissimo E' sponato l'altro albero E' sponato l'altro albero Mi sa che faccio subito la legna dai Così poi magari riusciamo a fare doppia produzione di albero E' una buona notizia Io mi sono dovuto suicidare perché avevo finito i blocchi E non sapevo come risalire No ma l'avresti chiesto Ti avrei tirato gioco Eh lo so Invece ho lanciato la spada e l'accetta So proprio mi sono ammazzato Ma guarda che sei Vabbè almeno non hai sprecato gli utensili Esatto Vabbè è stato bravo Allora vado ad ammazzare i mostri che ci sono Dopodiché vado a fare un balletto sulla piantagione Ok Si chiama il balletto della crescita Che conosci solo tu Sì Se vuoi te lo inizi a fare Vuoi sentire Vuoi un'anteprima? Ma scusa è un balletto Non è una canzone Quindi cosa mi dovresti iniziare a fare? Lo sanno tutti che quando si balla si canta pure Ma non è vero Certo Proprio da se Da che mondo è mondo Quando balli canti Non puoi fare queste cose Cioè non è un musical Stiamo cercando di sopravvivere Ti dico solo che non c'è bisogno Cosa è successo? Indovina Oh mio dio Vomial Oh mio dio Andiamo Andiamo Aspetta Aspetta Finisco dopo Finisco dopo Vai Vai 3 2 1 Ok Non è cresciuto Va bene Vabbè Faccio finta di nulla Continuo a far l'albero e mi sto zitta Che delusione Ma la legna che hai preso prima Dove è finita? C'ho io Tutta E credo di sì E se cadi in questo momento? Si perde Appunto Non mi piace Dai tanto sto prendendo l'albero Ma come vuoi che faccia cadere? Cioè sto ferma qui Fammi un'altra Un'altra ascia Vai Muoviti Muoviti Tieni Grazie Renditi utile Ma cosa renditi utile? Chi ha procurato uno di Vomial? Quando tu sei andata non ti è uscito nulla di nulla E io li ho trovati È casuale Non ci si può fare nulla Sì Stai zitto Sì Allora Facciamo così In modo tale che quando vogliamo prendere le cose non ci cascano Perché sai Voglio evitare anche questo tipo di rischi Assolutamente sì E dobbiamo continuare ad aspettare Uh c'è un alberello Un alberello per noi Eh l'ho vista L'ho vista Sto cercando di prendere anche i blocchi in alto Questa volta c'è un sacco di legna in altissimo Non ci arrivo Quindi sto cercando di organizzarmi un attimino Ok È tutto troppo alta Allora Torno Ah ma ti ho dato l'accetto Uffa Possiamo raddoppiare la produzione degli alberi Allora fai quello che voglio vedere Voglio assistere Dai 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 Vado Vai Vai Ok Fatto 1 2 3 Perfetto Ripianta i semini e andiamo a fare il pane Dai Andiamo subito a fare il pane 1 2 3 4 5 6 7 Ok Allora Possiamo andare così Eccolo Fatto Sì Guarda Uh dov'è 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 Mamma mia ha sfiorato In modo millimetrico La piantagione E vabbè ma anche loro che la fanno lì attaccata Eh lo so Una volta non avevamo colpa Non avevamo colpa Allora Non l'ho vista bene Cosa c'è Cosa c'è Non hai notato cosa c'è dentro Eh l'ho visto L'ho visto L'ho visto Mi sono riuscito a ricordare come si faceva Tac Olè Però ho detto che ce li avevamo già Dov'è Uh quella è bella Allora Hai notato che c'è un altro spawn Sì Quindi quello sicuramente lo dobbiamo tappare Perché così alla luce i mob non spawnano Già Quindi lo dovremmo tappare Fare un altro spawn da sistemare E anche lì vedo del ferro Quindi anche quella in parte Sarà sicuramente da minare Esattamente Prossima missione Cucina un pesce Questo vuol dire che Dobbiamo creare una fonte d'acqua infinita E in una di queste due isolotte di sicuro ci sarà l'acqua Quindi dobbiamo prendere il ferro Creare un secchio Prendere l'altra fonte d'acqua Creare una fonte infinita Sfruttare la fonte infinita col secchiello Per creare una piscina gigantesca dove pescare Trovare un pesce Cucinarlo E aver finito la missione Inizia ad essere più complicato Ti piace? Questa è davvero lunga È davvero lunga Sì Altro alberello Mamma mia A quanti siamo arrivati di alberelli? Tipo una decina guarda Ci è andato davvero bene Ne entri due? Ne ho uno Ok allora siamo a nove E vabbè però devo fancaosti blocchi Magari me ne da un altro Arriviamo a dieci giusti Non lo puoi sapere ok? Hai ragione Siamo pieni di polletti Siamo pieni di cibo Poi abbiamo quelle due isole da farmare Abbiamo completato due missioni stavolta Quindi direi che non siamo per niente messi male Siamo fortissimi Sì sì siamo fortissimi Dammi il cinque Dammi il cinque Aspetta aspetta Dove sei? Il cinque Ce l'ho devo dare il cinque Aia basta Ce l'ammazziamo Ce l'ammazziamo Mi hai lasciato a tre cuori Fermiamoci così Fermiamoci così Che hai troppe cose E non voglio farti perdere tutto Beh ragazzi il video è sicurissimo Lasciateci un bel like E questa è la prima volta che vedete il nostro video Potete considerare l'idea di iscrivervi Per non perdervi gli altri episodi Ciao alla prossima Ciao 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 ciao